buongiorno viaggiatori oggi è una bellissima giornata partiamo con gli sci per andare verso il lagazzuoi si parte è uno spettacolo sciare con questo panorama le gambe sono sempre un po' fredde ma ora ci si scaldano del paura tutta per noi la gravisa l'abbiamo fatta però il capo mi si è scaricata la batteria comunque non ci avrebbe stato un gran vedere è arrivata la nebbia proviamo ad andare sempre verso il lagazzuoi e speriamo che le condizioni migliorino siamo sullo ski lift per tornare indietro perché purtroppo il falzarigo è chiuso non è collegato l'abbondante nevicate di ieri probabilmente hanno reso il lavoro impossibile per una sola notte ci riproviamo domani sto tornando indietro e provo ad andare verso la val di fassa vediamo di trovare un po più di luce speriamo si parte per questa festa bellissima il ballon è un po' più di luce speriamo di trovare un po' più di luce speriamo di trovare un po' più è un po' più di luce speriamo di trovare un po' più di luce speriamo di trovare un po' più il sole sulla neve siamo in cima a forcella europa sopra portavescovo il panorama è bellissimo iniziamo la discesa di portavescovo che io soprannomino sempre la spianata dei cammelli per le gobbe panorama molto bello qua su sempre tanto un piacere venire quanto un dolore scendere per vedere le gobbe che a me non mi stanno molto simpatico ciao ciao Grazie a tutti.